Alberto, dici un commento di quali sono state le emozioni di questa prima esperienza in AutoGP? Sono contentissimo perché la prima mattinata con questa straordinaria formula mi ha permesso di rivivere le emozioni che ho trascorso nei due anni di formula anche se questa formula con più di 550 cavalli mi ha permesso veramente di avere un'ottima mattinata sono contento perché appunto la Superstar mi ha permesso di fare questo test e spero anche in futuro di risalire su una macchina di questo tipo è stata una esperienza fantastica che mi ha rilassato le emozioni di quando ero raccogliendo con le auto open-wheeled e questa macchina in additione a questo ha più di 550 HP, quindi è un'ottima attenzione per guidare voglio ringraziare la Superstar per aver dato questa opportunità e spero di avere un'opportunità più potente di testare questa macchina Alberto, pensi che la Superstar ti abbia aiutato anche in ottica guida di vetture e formula che le tue capacità si siano affinate con le ruote coperte un po'? Beh sicuramente correre in un team ufficiale come la BMW Italia mi ha permesso di acquisire nuove tecniche di guida e anche oggi ho messo in campo le stesse tecniche che ho usato quest'anno con la mia M3 anche se questa macchina è da guidare diversamente rispetto a una ruota coperta però comunque serve sempre correre con delle macchine da corsa Of course, racecars, all racecars make us improve e being with such an important team like Team BMW Italia helped me a lot and grown up my experience and even improved my driving skills even though the cars handle pretty different the open-wheeled cars require a different driving technique but I try to put in this test what I learned from this season with Team BMW Italia Would you suggest the participation in the 2012 Rookie of the Year Challenge to your fellow young drivers? Ti sentiresti di consigliare la partecipazione al Rookie of the Year 2012 di tuoi altri colleghi molto giovani piloti a ruote scoperte? Assolutamente sì perché la Superstar offre come abbiamo visto quest'anno il calendario veramente bellissimo con delle piste internazionali ma soprattutto anche perché le macchine della Superstar qualsiasi macchina sono molto divertenti da guidare e vanno veramente forte ma più che altro perché avranno la possibilità appunto di guidare una macchina di questo tipo per la prossima stagione Of course, I want to suggest it to them because first there is a Superstar has a great calendar with a lot of really important and exciting racetracks and the cars, all the cars are quite fun to drive and really powerful so it's something good to do and in addition to that this challenge will enable them to get behind the wheel of an open wheel race car like this Auto GP and possibly win a full season in 2013 so thanks a lot and congratulations and good luck for your future complimenti e in bocca al lupo per il tuo futuro Crepi, grazie anche a voi grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti